Stato dall'altra parte del mondo. Sai che c'è, cara sindaco, con te siamo tornati al Medioevo. Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma non voglio e non posso approfittare ancora della vostra benevolenza nell'ascoltarmi. Un'ultima considerazione. Il ruolo dell'opposizione, come ben sapete, non è quello di ostacolare, ma quello di controllare l'operato della maggioranza per evidenziare, per denunciare eventuali illegalità e comunque tutto ciò che può ritoccersi contro i cittadini, a volte ignari di quanto si decide e si fa nel Palazzo Comunale. E per questo, cari amici, è proprio questo, cari amici, il nostro compito. E questo è il nostro dovere. E noi vi promettiamo di continuare a impegnarci sempre per il bene del Paese. Grazie per la vostra pazienza. Un caro saluto a tutti. Grazie.